Qual è il significato di questi incontri che state promuovendo sul territorio, oggi in particolare a Lovere si parla di intimità e affettività dopo i 65 anni? Noi abbiamo attraverso il ruolo importante svolto dal coordinamento politiche di genere pensato a questa iniziativa, a questo convenio sulla affettività e intimità senza tempo proprio perché è uno degli elementi che noi riteniamo possa essere di importante supporto o aiuto ad un invecchiamento attivo che rimane uno degli elementi centrali dell'attenzione e dell'azione anche a livello di negoziazione sociale con le amministrazioni comunali che la FNP svolge sul territorio. Tema dell'invecchiamento attivo dove noi intenderemo poi proporre anche un ulteriore approfondimento, questo più avanti il 30 ottobre a Bergamo dove riteniamo che il tema dell'affettività sia un tema centrale. Affettività, relazioni sociali sono fra i capisaldi di quello che è un percorso di invecchiamento attivo che oltretutto noi riteniamo debba essere iniziato e curato già nell'età adolescenziale e adulta e non attendere la fatidica età che viene citata dalle statistiche e quindi un percorso di gradualità verso l'invecchiamento attivo che vede tra i temi centrali per un benessere di invecchiamento positivo il tema dell'affettività e dell'intimità anche sessuale, perché no? Anche perché sta aumentando la popolazione, chiamiamola anziana, nei prossimi anni arriverà l'onda del boom demografico quindi bisogna anche cercare di prevenire e di aiutare queste persone. Sì, assolutamente. Io faccio mie in questa occasione le parole di un intervento che ho sentito poco tempo fa di Monsignor Paglia dove lui diceva, stimolando, provocando un po' la platea dei pensionati, dicendo voi pensionati dovete essere rivoluzionari e da questo punto di vista io credo che lui abbia centrato completamente il problema rivoluzionario nel senso che bisogna essere capaci di costruire compressioni adeguate sulla politica, il futuro perché tutti constatano che le statistiche dicono che siamo un paese che invecchia e meno male che si invecchia di più e però non ci sono delle politiche adeguate all'invecchiamento e ripeto ad un invecchiamento attivo che porti il più tardi possibile ad avere la necessità di curarsi, ad avere necessità di essere ricoverati nelle RSA cioè fare in modo che l'accompagnamento all'età adulta, all'età anziana, alla terza età sia un percorso graduale e in benessere. Questa è l'attenzione che noi poniamo con la nostra azione sul territorio anche attraverso questi momenti di riflessione che servono per cominciare a focalizzare, a ragionare e poi a tradurre, perché siamo un sindacato, a tradurre in azione sindacale i suggerimenti, le proposte che dai seminari e dai convegni escono. Quali azioni state portando avanti come FNP per l'invecchiamento attivo? Alcune delle azioni sono, per esempio, abbiamo recentemente predisposto un opuscolo dove vengono sintetizzati in una dozzina di pagine quali sono le buone pratiche per un invecchiamento attivo. Stiamo facendo incontri anche sul territorio specifici di piccole assemblee anche con il supporto della Fedespierre che è l'associazione di medici in pensione dove incontriamo le persone e anche lì raccontiamo e si racconta quali sono i percorsi per un benessere e un invecchiamento attivo. In collaborazione con Anteas, che è la nostra associazione di volontariato e che si occupa molto delle persone anziane, non fragili, non autosufficienti stiamo predisponendo anche nell'ambito di Bergamo, Brescia, capitale della cultura anche qui un approfondimento della cultura come cura. Quindi tutte azioni che stiamo mettendo in campo per dare il nostro piccolo, magari marginale, contributo però alla popolazione anziana perché l'invecchiamento sia un fatto positivo e non vissuto con ansia, con angoscia o peggio. Questi incontri vedono anche il sostegno del coordinamento politiche di genere della CISL anche a livello regionale. Perché questo sostegno? Perché è importante questo percorso che si sta portando avanti? Abbiamo a cuore questo tipo di interventi fatti nel territorio, questo tipo di incontri aiutati, promossi, sostenuti anche dall'FNP regionale, dal coordinamento politiche di genere perché, come si dice sempre, uno dei valori fondanti all'interno della CISL e quindi dell'FNP è la persona, la persona che è al centro, quindi la persona su cui noi lavoriamo non solo con i nostri servizi ma anche con questo tipo di iniziative che ci aiutano a mettere a fuoco soprattutto nell'età anziana, quella di cui noi ci occupiamo, quelli che sono le fragilità ma anche le opportunità. Abbiamo iniziato una serie di incontri proprio da Bergamo e come regionale stiamo proponendo, perché le buone prassi si condividono, gli stessi incontri anche in tutti gli altri territori. Quindi abbiamo girato in questo 2023 in vari territori con la prima parte di questo incontro che si occupava della donna anziana ma anche dell'uomo ovviamente, fragilità ma soprattutto opportunità dell'età anziana e adesso passiamo ad un argomento che purtroppo molto spesso è sottovalutato, non se ne parla, ci sono molti tabù su quella che è l'affettività e l'intimità dell'età anziana, mentre è opportuno invece parlarne e confrontarsi, perché le persone che in una fascia d'età che diventa sempre più ampia, gli anziani stanno aumentando sempre di più, hanno bisogno di essere ascoltati anche da questo punto di vista, perché la socialità, l'affettività, l'intimità sono fattori importantissimi per una vita serena anche in età anziana. Di cosa si occupa soprattutto il coordinamento delle politiche di genere? Allora il coordinamento delle politiche di genere si occupa di portare all'interno di tutto quello che è l'ambito sindacale della negoziazione sociale, agli interventi ad ampio livello, a 360 gradi, di valorizzare quella che è la componente femminile. Noi sappiamo benissimo che purtroppo la parità e la parità di genere sono parole usate, sono parole su cui si fanno tanti interventi, tanti discorsi, ma non sono ancora una realtà concreta. Quindi noi ci occupiamo di, per quanto riguarda la parte FNP, quindi la parte che si occupa degli anziani, di valorizzare gli aspetti anche femminili all'interno del sindacato e nella società civile. Uso una battuta per sintetizzare il tema dell'incontro di oggi, l'affettività, l'intimità non vanno in pensione. Per fortuna che non vanno in pensione, soprattutto per gli anziani, anche se in realtà si pensa ancora oggi che gli anziani siano in qualche modo assessuati. Ci sono ancora tanti pregiudizi e tanti tabù per questo tema che invece oggi tenteremo di risolvere, di dimostrare un mondo completamente diverso. Gli anziani sono sessualmente ancora attivi, molto. Sicuramente ci sono dei cambiamenti a livello corporeo che hanno un impatto sulla sessualità, sulla psicologia anche in generale della persona anziana. Però non è più la sessualità dei 20 anni, ma si può riscoprire una sessualità diversa, un piacere diverso, forse meno diremmo oggi genitalizzato, ma più ampio, più esteso a tutto il piacere del corpo. Una sessualità meno, io dico, meno veloce, ma più lenta e quindi più da gustare, più da assaporare, con tutti i sensi. E secondo me le persone anziane possono insegnarci ancora tanto di questo loro modo di approcciarsi al sesso e possiamo scoprire un mondo veramente ampio e ricco, molto più di quello che pensiamo. E oggi lo faremo. Che differenza tra uomini e donne? Come si possono aiutare reciprocamente? Allora, ci sono certamente delle differenze, delle differenze legate soprattutto agli stimoli, legati alla sessualità. Gli uomini hanno delle stimolazioni più visive, le donne diciamo delle stimolazioni più tattili, però in entrambi c'è questo desiderio di mettersi in gioco che continua ed è costante. Ci sono una comunanza, sia uomini che donne vanno rispettivamente nell'andropausa e nella menopausa, quindi in un'età particolare per i cambiamenti che ci sono a livello del corpo. Quindi possono comprendersi anche nelle difficoltà in questi cambiamenti, possono comprendere che c'è bisogno di un ritmo diverso, più lento, c'è una danza nuova da gestire e per una danza serve un partner maschile e un partner femminile per farla davvero con una buona musica. Ecco, in questo si possono aiutare. Che consigli si possono dare per gestire la sessualità al meglio nella terza età? Allora, sicuramente sono tre gli elementi importanti, il corpo in primis, la mente e la parte emotiva. Bisognerebbe cercare di lavorare su questi tre aspetti, cercando di trovare un'armonia tra punto corpo, mente e cervello ed emozioni. Significa fare tante cose, significa allenarsi a tutta la parte del rilassamento corporeo, significa chiedersi che emozioni si provano mentre si va, si sperimenta un incontro sessuale, significa anche identificare magari quelli che sono i pensieri disfunzionali, disturbanti e invece magari i pensieri che ci facilitano nell'incontro con l'altro sesso. Quindi significa esplorarsi su tante dimensioni differenti e metterle insieme, integrarle. Questo è davvero importante, è un'armonia di integrazione che ci porta a vivere il sesso a 360 gradi con un ritmo diverso.